Allora, io esprimerò un punto contrario, considerando il rispetto, la meritocrazia di chi ha vinto un concorso, di chi crede nei concorsi, di chi crede appunto nella meritocrazia. Come detto Pocanzi, ma nel consigliere Battista, ci sono tante famiglie, tanti genitori che fanno sacrifici per far sì che i loro figliori possano assumere una preparazione a corte, tale da ricoprire di portare i carichi e i carichi affinati da un ministro amico. Qui dice la logica clientelare, qui dice la logica delle amicizie e puntualmente, vedete, sindaco, desidererei che ascoltasse quello che sto dicendo per un fatto di insana nuova politica. Grazie. Sarebbe altro opportuno che guardassi in faccia e non abbassassi la testa. Sindaco, vorrei che mi guardassi in faccia e non abbassassi la testa. Per la questione di rispetto, va bene, va bene, va bene, va bene, si diceva, 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 quindi queste, queste, queste sottolineate. Peraltro, parlo a te, grazie, grazie. Peraltro, il signor Bellucci, il signor Bellucci Giuseppe, l'ha detto, l'ha detto un invitato a Tele Sud, nel compagno che lì mi ha fatto, è un giornalista che sta facendo l'intervento, no, rispondo, perché non può fare l'intervento? Posso parlare? Perché è stato ordinato, sapevo, per te le solio è contro la tutta l'intervento del bombello del Hessico Storto. Signor Bellucci Giuseppe, io rispetto la sua... Io sono a ricece, ho, non ho detto, non ho detto, non ho i datmi, però, i piedi, in qualità, si va, ma che si, mi ha detto, no, io sono chiesti, un gestore, perché intanto il 19, 19, 19, 19, 15, 15 persone che stanno e se io mi fai con me nessuno cosa me lo fa se no è un pezzo di una città di una città di una città di una città si eseguerebbe un pezzo di una città di una città scusa ma io posso più mare o no? non lo fa ma questa è zona che è importante di giornalistica ma io gli ho preso non si chiede se voglia la vita io faccio se è la vita io faccio un imprenditore del settore della politizzazione e lei pensi un imprenditore del settore io devo vincere lo sanno altro o no? e per favore se si attenga il suo attento e l'attento di un evitante se lo mette nella testa per favore consigliata l'indito ma allora ve lo spiego non potete spiegare nulla allora ho una richiesta di organizzazione perché il signor che ci è stato organizzato in portata dentro lei fa il consigliere ora dirgli amici della stampa devono fare informazioni su un servizio questo è il suo e lei sta riprendendo le escezze di intervento se 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 non si vuole riprendere anche un rivolto si viene avanti si da si si se non potessi se non potessi allora non possiamo intanto lei sta dicendo quello che deve riprendere lui ma siamo veramente tanti numeri fammi mettere fuori luigi sta svolgendo l'attività giornalistica e sta dicendo cosa che riprende la porta stabilizza il risultato e se vado a capire il risultato lei riprende il senso è giusto che la risa a tutti i consigli facciamo l'eleppo dell'eleppo l'eleppo però per favore l'eleppo l'eleppo e ti fa fare l'eleppo e ti fa fare l'eleppo mi faccio 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 l'eleppo ma eh si però non si deve dire il senore non ci capisci se ne viva segretario se ne vengo per l'eleppo segretario si viene a fare si viene a fare allora faccio consiglio io ora comincio a cambiare l'eleppo per favore si capisci cosa mi cassa? allora la minaccia non mi conosci un po' ma l'eleppo lei sta rascondiando io ora allora ora basta per favore allora i quali dati responsabili della comunicazione delle vendette web del tipo delle sue a prescindere dal mio ruolo un istituzionale di consigliere comunale lo dichiara lei lo dichiara lei lo dichiara lei chiedo perché il consigliere comunale dell'118 sta continuando a perpetrare un conflitto cosa che lei ha scritto in una maniera diversa quindi la consigliere comunale presidente io ci sono che è un ruolo che è un ruolo che è un medico presidente se mi fa parlare 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 la consigliere comunale mi fa parlare 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 tutto il giorno ora lo dice io ci sono qui lei il presidente c'è una città dove si tratta la città la città la città ma voglio capire prego siamo da Gesù Cristo allora dice il Presidente davanti al fatto di vericocrazia io ripeto che sarebbe qualcuno di sarebbe avere spazio a coloro in quali hanno mandato sul campo attraverso studi particolari abilità e conoscenze amministrative ma questo secondo me è anche il secondo piano andando a determinare un risparmio di risorse avvincendo dal personale intero peraltro devo contrarvi l'assessore speciale perché se 1 più 1 a 2 leggo il Collegio di revisione di evidenza che le somme utilizzate a copertura dell'autore di un oggetto vanno a sottrarsi alle risorse già previste per gli ultimi se questa che dico italiana e che dico italiana c'è scritto che se io devo dare nella virata questa me la devo togliere altro questa è l'italiana se ancora l'italiano è comprensibile e se io ancora riesco ad interpretare la lingua italiana si parla di sottrazione di risorse già previste per il gruppo c'è scritto contamente mi piacerebbe anche capire che potassi poi è proprio alla vicinuna non lo so mi piacerebbe anche a un'altra contente un'interpretazione autentica del sindaco anche questo sarebbe un contributo in ottima in latinata in un gioco delle parti sano costruttivo ma non la nostra posizione perché non sono il cane e il nostro che mangia nessuno però si da un'altra anche il mondo muore sopra il città e il senso è che è tronco per te grazie la città è il mio con questo grazie di voi grazie 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 grazie